Dal 22 gennaio al 22 febbraio sono aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2016-2017. Si fa tutto online. Hai già scelto la tua scuola? Trova quella che fa per te su Scuola in Chiaro. Poi vai su www.iscrizioni.istruzione.it Registrati per ottenere le credenziali di accesso e compila la domanda. Hai un mese di tempo, ma bastano 20 minuti per fare tutto. Iscrizioni online. Niente carta, tutta scuola. Grazie a tutti.